Buongiorno, buongiorno amici, sono sul volo a Aeropla che mi porta la prima a Madrid e poi a Miami dove domani imbaccherò su MSC Sea Shore in una bellissima crocella carabica che culminerà con un evento molto importante di due amici che convoleranno nozze e quindi la nuova tendenza di sposarsi ai Caraibi è veramente qualcosa di bellissimo, stupefacente proprio cercheremo di poter raccogliere piccole immagini lasciandola totalmente la loro privacy e vi faremo vedere cosa vuol dire sposarsi all'estero A presto! Welcome to Miami Welcome to Miami Arrivati a Miami eccoci qua ci buttiamo nel cibo nel cibo gourmet io sono fatta dieta pensavo di averle viste tutte in vita mia e siamo su ocean drive il quartiere art deco di miami beach un po' di più Grazie a tutti